Stendiamo la colonna di più, di più, di più, andiamo su, su, su. Il movimento della gamba, a destra prendi l'aria, torna a sinistra la butti fuori, a destra prendi l'aria, sinistra butti fuori, a destra prendi l'aria, sinistra butti fuori, a destra prendi l'aria, sinistra butti fuori. Stendi di più la colonna vertebrale, su, respira, prendi l'aria e prova ad andare con la fronte verso la gamba. Arriva dove puoi. Proviamo a fare la fase successiva, rimanendo così giù, proviamo a mandare la gamba dietro il collo. Sì, non importa dove va, non importa, non importa il nostro pensiero che comanda. Abbiamo pensato e deciso che il piede e la gamba va dietro la testa. Benissimo, torniamo, appoggiamo il piede sopra l'altra gamba, apriamo le braccia dietro sul tappetino e mandiamo la testa dietro e lasciamoci completamente andare. Respira il naso e la bocca, benissimo. Grazie. Grazie.